Qui tra l'aglio orsino troviamo un'altra pianta molto interessante che è la Corridalis cava, Colombina cava, delle papaveracee. Guardate, un pochettino ricorda la fumaria, che è della stessa famiglia. Infatti questa pianta, prima di cambiare la nomenclatura ed essere chiamata Corridalis cava, veniva chiamata fumaria bulbosa. Bulbosa perché è proprio una pianta bulbosa perenne, di solito alta 15-30 cm, che produce lattice. Ha un fusto che è corto, eretto, non ramificato e glabro. Ve lo faccio vedere. Partirà dal bulbo che ovviamente non vi faccio vedere perché non estirpo la pianta. Quindi abbiamo questo fusto che parte, che sostiene poi i fiori, che è appunto glabro ed eretto. Vedete? Le foglie caoline sono alterne, si pongono in maniera alterna e sono doppiamente bitri pennatosette. Infatti se guardate la foglia ve la faccio vedere, al contrario che è più facile, vedete che ogni foglia si ramifica, poi si ramifica ancora, quindi sono due o tre volte bitri pennatosette. Eccole qua. Magari se riesco a tenere ferma le foglie e vi faccio vedere, riesco a inquadrarvele. Eccole qua. Allora, i fiori si riuniscono in questi grappoli terminali e abbiamo la presenza di circa una ventina di fiori, ma possono essere anche meno, dai 6 ai 20 fiori. Sono fiori zigomorfi lunghi circa 2 cm. Sono veramente meravigliosi, quindi cerco di inquadrarmene per farvi vedere la meraviglia di questi fiori. Eccola qua. Che altro? Allora, attenzione perché questa pianta non è commestibile, anzi può dare anche delle allucinazioni, però è una pianta che ha alcune sostanze che possono essere utilizzate per curare il Parkinson, quindi stanno facendo degli studi per poter vedere se è possibile utilizzare alcune sostanze di questa pianta. Ultima curiosità, Coridalis significa allodola, perché sembra un pochettino il ciuffo piumato dell'allodola questo grappolo di fiori. Ecco qua. E questa è la Coridalis cava.